buongiorno a tutti e benvenuti al pur parler il pur parler è il mio piccolo talk show e quest'oggi ho il piacere di avere con me una persona con cui parlerò di vita e fotografia tatiana minelli grazie ciao caro benvenuto grazie allora iniziamo la puntata sapendo tu hai i dati generali quando sei nata dove vivi e cosa fai nella vita allora io sono nata a guadotadino il 6 ottobre del 92 quindi ho 21 anni e mezzo poi ne farò 22 a ottobre e al momento diciamo che faccio fotografia ma non in modo ancora che un negozio oppure un'attività improprio diciamo dovrei iniziare poi questo mese a lavorare con un negozio di fotografia tramite un progetto comunale che è lo studio video 816 di Filippo Rondelli quindi spero che anche così imparerò sempre più nuove cose e a lavorare proprio in un negozio che è molto diverso da quando vai a fare uno shooting perché il negozio invia un ordine stai a contatto ancora di più con tanta gente nuova gente che non conosci non è che ti sei accordato prima come sono shooting ma quanto secondo te quanto ha inciso la tecnologia nella fotografia? tantissimo perché sei su facebook o su... sì io per prima non sono una di quelle che addita le persone che utilizzano internet io stessa cerco di farmi conoscere adesso tramite facebook tramite programmi come flickr, timbre ci sono tutti questi social network che aiutano è vero che una volta invece la fotografia era solo cartacea quindi dovevi farti conoscere solo tramite editoriali tramite mostre tramite foto stampate adesso con il digitale tutti hanno la possibilità di farsi conoscere che anche questa è una cosa positiva ma non c'è solo il lato negativo del social network assolutamente allora l'altro giorno è stato il giorno di ricorrenza dei vent'anni dalla morte di Troisi e davano in televisione un film Il Postino, non so se l'hai visto mai, bellissimo film nella tua vita ti piace scrivere lettere? oddio, scrivere mi piace scrivere? lettere? sì e no sono un po' pigra quindi se mi ci metto sì ho scritto anche lettere anche perché ho conosciuto persone che mi abitavano lontane con cui dovevo rimanere in contatto solo cartaceo persone che anche erano in altre parti del mondo quindi in quei casi quando sono veramente isolate solo scrivere una lettera però è strano scrivere una lettera perché ti ritrovi lì che devi raccontare di te scrivendo e a volte non sai che dire rimani un po' interdetto quindi è difficile secondo me scrivere una lettera hai un tiramento ma non abbiamo paura no io no, anzi mi entra un po' d'aria hai mai mandato foto per posta? foto? tramite proprio la posta la posta? la posta no la posta comandata o? no, sinceramente no perché ce le mandiamo telematicamente? esatto, io se mando foto le mando adesso è più comodo via telematica a meno che non si tratti di mostre o di esposizioni che in quel caso spesso vogliono delle foto cartaceche però ancora non ho mai provato a fare mostre fotografiche la mostra per un fotografo faccio una domanda a ignoranza è paragonabile ad un defilé per un stilista? cioè lo stilista fa il defilé come compilimento di il fotografo fa una mostra come raggiungimento di un traguardo è un po' complicato perché le mostre le mostre fotografiche spesso riguardano l'arte quindi io vedo molti fotografi che espongono che fanno delle foto molto particolari quindi vanno al di là della moda poi ci sono invece fotografi che riescono ad unire arte e moda e in quel caso quindi si crea qualcosa che è anche doneo a una mostra fotografica io ho visto che le mostre fotografiche di moda spesso le fanno persone che hanno già raggiunto un livello molto alto quindi sono fotografi di moda di pubblicità veramente tanto conosciuti e allora per far vedere le loro opere da quelle più recenti a quelle più antiche espongono in giro per il mondo però che agli inizi a me piace moda comunque quindi all'inizio è meglio decidere o se ti butti in foto di moda o in foto artistiche e poi semmai se sei per foto di moda anche se mi piace ogni tanto sperimentare con Photoshop creare delle foto dei mondi che sono solo miei però più avanti mi piacerebbe se dovessi mai riuscire ad andare avanti con la carriera nella moda e pubblicità poi un giorno più avanti dedicarmi anche alle mostre ma insieme all'inizio è meglio è difficile ti perdi in una delle due Immagino Allora una lettera comunque sia può cambiare i ragionamenti della persona rispetto ad un SMS? Sì secondo me sì perché secondo me la lettera è più personale nel senso l'SMS la vedo molto più impersonale quindi ti ci metti ma ti ci metti in modo più leggero su una lettera ti ci metti anche se devi solo scrivere ciao come stai comincia a pensare dici no basta non gli dico questo gli racconto quest'altro su un SMS dici vabbè gli lo mando sul prossimo comincia a pensare è più superficiale secondo me la lettera è molto molto più personale e anche questo mi permette di dire il bello credo credo la tecnologia scusa mi sono sbagliato qui a scrivere nessun problema consegnava posta a Pablo Neruda e il postino nel film scrittore di poesie hai mai scritto una poesia nella tua vita? una poesia? no però mi è capitato gli anni scorsi di scrivere brevi racconti di scrivere piccole frasi tipo citazioni mie personali una volta ero su un sito che credo ci sia ancora pensieri e parole e ci mettevo le frasi che creavo io però scrivere mi piace molto però con gli anni forse l'ho persa un po' non mi ci sono più messa mi sono dedicata alla fotografia quindi è passata un po' però l'animo ce l'ha qualche volta possono trasmettere quanto una poesia delle foto? sì anzi io mi è capitato di fare una volta un progetto fotografico ispirato a una poesia di una ragazza che è di Milano lei ha scritto una poesia e mi ha chiesto ti va di ricrearci delle foto e insieme lo abbiamo fatto tanto è arte sia la poesia che la fotografia quindi possono andare di pari passo una poesia si può ispirare a una fotografia o una fotografia si può ispirare a una poesia secondo me giusto il bianco e nero è a grande trasmissione sì di emozioni di emozioni stanno andando sempre di certo a me piace tanto il bianco e nero in certe foto se tu le vedi a colori o in bianco e nero cambia la foto cambia non lo so il bianco e nero mi dà più l'idea di vissuto di un momento intimo se faccio una foto di una ragazza in un momento che è come se sembra un momento suo probabilmente poi la riconverto in bianco e nero perché è un'idea più più di anima diciamo il bianco e nero sì ma anche perché la fotografia all'inizio era in bianco e nero e il fatto che fosse in bianco e nero secondo me è una cosa che si ripercuote anche adesso perché tu vedi le foto di una volta con quel bianco e nero che non è un bianco e nero di photoshop quindi è tutto elaborato è un'altra cosa secondo me comunque parlando di grande trasmissione come formato nella vita ti piace attribuire alle persone la definizione di un grande ah quello è un grande quello è un grande sì sì mi capita mi capita soprattutto in ambito fotografico devo essere sincera o anche in ambito umanistico comunque persone che realizzano qualcosa soprattutto quelli che realizzano qualcosa nella loro vita inseguono un sogno che si danno da fare alla fine ci riescono dico è un grande o una grande sì in base a secondo te l'età media per l'evoluzione professionale di un fotografo qual è? l'età media la cosa bella della fotografia mi stanno suonando ma non è un problema mi ricordo lo cuore secondo me non c'è una data precisa c'è degli anni precisi perché io vedo fotografi fotografi quindi uomini e donne che si affermano cioè ragazzi anche a 14 anni io vedo certe fotografie anche di moda di persone che hanno 16 anni 15 20 ci sono persone invece che ci mettono parecchio quindi forse arrivano a 40 anni ci sono dovuti fare 20 anni diciamo di gavetta alla fine riescono a farsi conoscere e ad avere i loro risultati quindi il bello della fotografia è che in qualsiasi momento non hai età in qualsiasi momento puoi iniziare secondo me in qualsiasi momento puoi sbocciare e in qualsiasi momento però puoi anche finire fondamentalmente tieni alle foto che hai scattato le tieni in conserva inteso cartelle date eccetera oppure no? sì io ho il mio computer dove è tutto fatto a cartelle tutto più preciso possibile perché se no mi perdo all'inizio gli inizi inizi forse no invece adesso ogni cartella con il nome della modella o del modello io mi ricordo e poi in caso sotto cartelle in caso rifaccia più foto con la stessa persona però sì se no mi perdo è finita cioè ci saranno migliaia 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 di foto dentro il computer quanta foto hai indicativamente? tantissime anche perché ho dovuto anche aumentare la memoria del computer a 700 invece prima ce l'avevo a 350 giga era pieno ho dovuto arrivare a 700 giga e ho anche preso un harddisk esterno da un tera cioè è troppo io nel mio non sono un fotografo ho scattate 12.000 foto beh io penso che le supero e io faccio sulle minimo due o trecento foto a shooting e ho almeno 20 persone dentro no più più di 20 persone poi stessa persona anche più volte quindi no è lunga la come posso dirti la scuola della fotografia la teoria fotografica allora la fotografia è veramente tanto complessa perché ha una tecnica dietro che veramente ci devi stare a studiare che sia io per esempio sono autodidatta quindi imparo da sola però anche se uno fa delle scuole ci metti anche tre anni comunque almeno per finire una scuola di fotografia perché si va dalla tecnica alla pratica io per esempio devo essere sincera ho fatto dei corsi anche gratuiti però io riesco a capire soprattutto mettendo in pratica quindi io sono stata mesi e mesi e prova vado all'automatica al semi-automatico fino ad arrivare poi al manuale facendo ho fatto anche dei workshop di moda mi piacerebbe fare dei corsi o una scuola di fotografia il problema è che pubbliche non ce ne sono ancora qui in Italia quindi costano veramente migliaia migliaia di euro hanno quindi in pochi veramente riescono a farcela sarebbe interessante una specializzazione delle superiori nella fotografia la voglia che poi ci sono ci sono comunque il liceo artistico a volte sì anche la fotografia però ovviamente ha un livello un po' più non è una specializzazione massima ci vorrebbe proprio un'università secondo me della fotografia perché si fa solo se uno fa cinema però si fa sempre in minima parte comunque quindi dovrebbe essere proprio una specializzazione proprio fotografia però aperta a tutti che ci sia un esame o meno però che sia aperta che sia privata secondo me certo la fotografia comunque è bella anche perché è un linguaggio universale sì perché se voglio trasmettere qualcosa con una fotografia posso farlo è vero che è soggettivo perché ognuno poi nella fotografia però se voglio trasmettere quel messaggio ci riesco e arriva a tutti senza bisogno di parole poi ovvio che se uno invece fa una foto di un progetto una foto personale è bello che sia soggettiva perché io ci posso leggere una cosa un'altra persona un'altra e è bello anche sentire le opinioni della gente i punti di vista perché può piacere o meno però anche quello fa parte della fotografia come dell'arte penso in generale comunque certo